Madame de la Grambouche Bella La voce I capelli Simpatica, a pratti Gelosa Sono un po' ingombrante Un po' Pestolata Scusi Giusto quel tantino egocentrica No Dici così perché non ne hai Cinquanta Sì Durante gli anni ne ho avuti talmente tanti Che ho perso il conto Oh mamma Lo chiede anche Avrò un motivo per chiederlo Io Ovviamente Sempre io Ti piacerebbe Modestamente Modestamente Mua Beh diciamo che Durante gli anni io Ora oggigiorno Lei ma Vabbè Il padrone Lo pulisci tu dopo C'è un motivo perché sei una scopa Il ricordo più focoso Io ho un po' di problemi di memoria Questo è risaputo Al momento dico quando ieri Lumière mi ha bruciato Un pezzo di capelli E ho dovuto attaccare Delle extension Il ricordo più focoso Un orologio ma penso Cinco minuti Cinco minuti E' normale Conoscere tante persone Conoscere tante persone Per poi trovarne una Con cui condividere il resto della mia vita E tornare a cantare Ovviamente nei teatri di opera più importanti del mondo Come ho sempre fatto Conoscere il trompe